e lunedì 3 settembre buongiorno Friuli e buon inizio di settimana a tutti da Udi News TV la nostra prima ora di diretta assieme come di consueto ci porterà a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali andremo poi anche sui quotidiani locali tanti anche i temi oggi in discussione poi nella seconda parte grande spazio dello sport all'Udinese che è uscita sconfitta 1 a 0 ieri a Firenze tanti argomenti li andremo ad affrontare tra poco assieme prima di farlo però uno sguardo rapido alla situazione del traffico sulle autostrade della nostra regione grazie al sito di info viaggiando di Autovie Venete arriviamo ad un inizio di settimana dopo un fine settimana abbastanza caotico da bolino rosso e nero al momento non vengono segnalate particolari criticità nella tratta della 4 tra Trieste e Porto Gruaro ci sono i consueti restringimenti per i lavori della terza corsia soprattutto nello snodo di Palmanova che nei prossimi giorni vedrà posare anche il nuovo ponte e per quanto riguarda anche la A23 nessuna criticità nel tratto tra Tarvisio Udine e Palmanova veniamo dunque alle prime pagine dei quotidiani nazionali partiamo dal Corriere della Sera che divide la sua prima pagina in due parti di taglio alto c'è la situazione critica in Libia con i ribelli verso Tripoli Sarrai isolato nel caos la capitale libica proseguono gli scontri tra le milizie attorno alla capitale il consiglio presidenziale guidato dal Sarrai sempre più isolato ha proclamato lo stato di emergenza e anche da parte della diplomazia italiana presente in Libia si sta effettuando il trasferimento verso l'Italia a centropagina invece la politica italiana con il ministro Tria che cerca la sponda di Conte il leader 5 stelle dice non pugnaleremo gli italiani timori per l'apertura dei mercati di Maio reddito di cittadinanza entro il 2019 Salvini risponde con ancora un attacco sullo sforamento del 3 per cento e dice Salvini lo supereremo timori per l'apertura oggi dei mercati dopo una settimana difficile c'è anche il consueto punto data room di Milena Gabanelli che inquadra le pensioni 2036 un professore avrà 1200 euro e poi ancora la cronaca stupri di gruppo siti e social media il dossier sulla violenza il numero di violentatori arrestati supera il numero delle vittime sempre più giovani che vengono sedate con modi gentili adescate via internet grazie a appuntamenti e per questo la direzione anticrimine della polizia lancia l'allarme ogni giorno sono 11 gli episodi che vedono le donne vittime di violenza da gennaio a luglio 2311 le denunce presentate questo per quanto riguarda la prima pagina del Corriere della Sera ci spostiamo ora su Repubblica troviamo il titolo di apertura dedicato al tema degli appalti gli appalti pubblici esclusi a vita i condannati per corruzione la proposta del governo deficit lega i 5 stelle in pressing su tria confindustria tentata dalla piazza anche Repubblica poi sceglie un'immagine di Tripoli con le colonne di fumo dove si stanno fronteggiando le milizie rivali Serrai dichiara lo stato di emergenza e poi ancora uno studio dell'ispi tre mesi di Salvini oltre 12 mila clandestini in più e ancora il libro di Khaled Hosseini la storia ci chiede di essere più forti della nostra paura su Repubblica si parla anche in prima di sport la formula 1 dopo il gran premio di Monza ieri sconfitta la Ferrari la Mercedes di Hamilton si prende Monza lasciamo anche la prima di Repubblica ci spostiamo su Libero che propone in apertura un'intervista al ministro e avvocato Giulia Buongiorno che dice così assolvo la Lega l'incriminazione di Salvini è stata suggerita da una corrente della magistratura sono basita il viminale ha diritto di tutelare l'ordine pubblico sui soldi sequestrati al carroccio non capisco perché se a processo ci sono solo individui si prenda denaro al partito così si tradisce la razio della norma che vuole evitare responsabilità a questi enti queste alcune delle dichiarazioni di Giulia Buongiorno centropagina c'è Flavio Briatore che dice il turismo va male perché noi italiani siamo dei cretini non investiamo sulla nostra ricchezza ancora di taglio centrale su Libero chirurghi cardiologi i nostri migliori medici viaggio di Libero nelle eccellenze degli ospedali del paese dalla prima di Libero ci spostiamo sul giornale che pone al centro della sua prima pagina il blitz grillino sull'aborto schiaffo ai cattolici il 5 stelle propone una interruzione di gravidanza più facile lega furiosa allo scontro ora e anche sui temi etici a centro pagina si parla di televisione la bestemmia in tv costa 25 mila euro multata la RAI quattro anni dopo si riferisce la decisione all'imprecazione di Tiberio e Timperi in onda per errore e poi a centro pagina agli esteri il caos Libia rischiamo l'invasione Tripoli assediata dai ribelli bomba migranti sull'Italia c'è una bella storia che racconta il giornale arriva dagli Stati Uniti a 99 anni 10 chilometri al giorno per vedere la moglie malata lasciamo anche la prima pagina del giornale ci spostiamo sul fatto quotidiano le parole di Di Maio in apertura redditi a 5 milioni di poveri e sempre no tap le dichiarazioni del vicepremiera alla festa del fatto con di battista alla versiliana queste appunto le parole di Di Maio raccolte dal fatto tra l'agenzia di rating e i cittadini ha dichiarato il vicepremiera sceglieremo sempre gli italiani il gasdotto lo vuole la Lega ma per noi non è una utilità e restiamo contrari sempre dalla prima del fatto la storia di copertina l'asilo nido è un miraggio restano a casa otto bimbi su dieci si torna a scuola ma ci sono sempre problemi soprattutto in campagna calabria puglia e sicilia che hanno incassato il 60 per cento di fondi stanziati e ancora Renzi sulla bici omaggio lo spot da 300 mila euro pubblicità palese mai restita mai restituita a col nago e sempre dal fatto di taglio alto si riprende le dichiarazioni di cola gratteri il procuratore di catanzaro ospita pietra santa anziché dai mafiosi i politici vadano in mezzo alla gente e ancora le prigioni americane il business della detenzione privata violenza repressione ma anche profitti affari dietro le sbarre lasciamo anche il fatto ci spostiamo sul foglio che nella sua prima pagina torna su un argomento di discussione popolare di questi giorni ovvero le nozze tra la ferragni e fedez storia di un matrimonio celebrità influencer fashion blogger tanti temi per le nozze dell'anno quelle di noto l'italia di fedez e ferragni dice il foglio si propone come un nuovo fenomeno e un brand di una italia particolare lasciamo anche il foglio e ci spostiamo sulla verità la nostra carrellata di prime pagine si chiude con il quotidiano diretto da maurizio belpietro che parla delle case di lusso con i soldi dell'unicef le carte inguaiano i parenti di renzi una inchiesta esclusiva le avventure immobiliari del giglio tragico dal conto su cui arriva nei finanziamenti per la beneficenza nel 2015 parte un bonifico per il portogallo pochi giorni dopo viene registrato l'acquisto del villone a cascais del fratello del cognato dell'ex premier e domani parte a firenze il processo contro babbo tiziano e mamma laura questo racconta la verità che poi propone anche papa bergoglio il papa coperta anche un altro monsignore gay continua l'attacco al vaticano il vaticanista dell'espresso spiega queste nuove possibili rivelazioni mentre a centropagina si parla dell'impressionale dell'impressionante statistica sul commercio di droga da milano a catania debut al teser in 12 città ogni ora presi tre spacciatori immigrati chiudiamo la nostra carrellata di prime pagine quotidiane dei nazionali e ci spostiamo su quelle dei locali a partire dal messaggero veneto che in apertura fa un'analisi a livello regionale sul possibile taglio alle pensioni d'oro quante sarebbero a rischio in friuli venezia giulia sono oltre 5 mila gli assegni e la riduzione potrebbe arrivare a 300 euro al mese dopo la scura annunciata dal governo a centropagina l'udinese ne parleremo nella seconda parte un primo stop punita a firenze l'udinese troppo remissiva andremo ad affrontare poi i commenti sul match le altre notizie che troviamo in prima sul messaggero la questione dei casi di tubercolosi tra i migranti ospitati in friuli crescono in provincia l'assessore comunale di udine barillari chiede alla regione più fondi ancora la cronaca che arriva dal capoluogo friulano con una bimba che caduta dalla finestra del secondo piano è rimasta fortunatamente illesa nella zona di via di giusto e ancora la cronaca a pocenia si cerca da tre giorni l'auto dell'anziano scomparso gli investigatori stanno cercando appunto di venire a capo di questa scomparsa di un cittadino di pocenia si parla anche di politica regionale nel messaggero veneto di oggi in crisi le feste di partito il pd costretto a tagliare lo staff in attesa del congresso regionale mentre sul fronte della giunta fedriga l'assessore roberti attacca bruxelles così così ci penalizza sui fondi entriamo dunque all'interno del messaggero per approfondire le notizie che abbiamo trovato in primo piano a partire dal focus sui partiti l'estate fine estate solitamente periodo di feste di partito di ritrovi di sagre ma quest'anno sono sotto tono ci sarà anche il congresso decisivo per il partito democratico che cerca una nuova via gli incontri sul territorio confermano le difficoltà di un movimento che non riesce ancora a rialzare la testa si parla anche delle ipotesi del nuovo corso in regione con l'ex assessore sciauli l'ex deputato coppola in corsa per la segreteria ma più di qualcuno pensa a un terzo nome nel frattempo a udine è previsto l'arrivo il 20 settembre prossimo di Enrico Letta l'ex premier parteciperà alla scuola politica della diocesi con l'incontro di apertura in programma in castello proprio il 20 settembre questo è il caso e il focus sul PD ma nel frattempo si discute anche del futuro di forza italia che balla tra tagliani e toti con lo spettro dell'annessione fino adesso infatti nessun azzurro di peso del frio di venezia giulia ha lasciato il partito per passare al carroccio ma una svolta romana potrebbe portare molti esponenti bellusconiani verso via bellerio il vice di bellusconi organizza il consueto appuntamento a fiugi alla fine del mese vedremo anche come finirà in regione la il caso politico di forza italia anche e i rapporti con il carroccio nel frattempo cresce la civica di eh Sergio Bini progetto FWG che corteggia i sindaci moderati si parla di un possibile passaggio di Renzo Zanette primo cittadino eh di eh Tarvisio eh la Lega tra l'altro si ritroverà per la sua festa regionale a Pradamano e domenica ventitré settembre atteso proprio il vice premier eh Salvini si per si partirà ventun il ventun settembre mentre la settimana precedente in programma eh c'è la festa della Lega a Trieste. Dicevamo eh del tema delle pensioni d'oro di Italia annunciati dal governo in Friuli Venezia Giulia sarebbero da ricalcolare circa 5.000 assegni che superano la soglia 1.700 le persone che cedono gli 80.000 euro l'anno complessivamente i pensionati sono più di 358.000 e c'è anche questa eh tabella che riassume regione per regione la quota eh i pensionati eh da gennaio in Austria invece eh c'è stato un aumento maggiore dell'inflazione e quindi anche il ricalcolo eh delle pensioni eh nel frattempo eh ci sono ventimila persone una platea di invisibili che sfiorano il limite di povertà al numero fornito dall'Inps dei beneficiari esclusi eh da eh quanti cioè non incassano entrate diverse dal trattamento previdenziale. Andiamo ancora avanti eh con le notizie che troviamo sul eh messaggero Veneto eh ci sono i fatti di cronaca nazionale poi torniamo sulle questioni regionali eh con la sanità una sanità che richiamo per pochi eh c'è una fuga invece per ortopedia e chirurgia generale. Eh meno attrattivo del solito alla nostra regione. Pordenonese in equilibrio per la vicinanza con il Veneto le entrate calano ma il saldo resta eh positivo e vedete eh i dati sulla trazione sulla fuga e suddivisi per azienda sanitaria. Il trend il trend eh si fanno altrove eh esami e cure per la eh riabilitazione balza all' elevato numero di persone residenti che si rivolgono alla sanità di altre regioni per appunto la riabilitazione funzionale soprattutto in Veneto. Cosa dice la giunta regionale con il vicepresidente Riccardi? I pazienti da seguire anche nella fase post ospedale necessario occuparsi di più delle esigenze di una persona quando viene dimessa e dei servizi per la cronicità. È creata anche la capacità del nostro sistema di catalizzare interesse da fuori regione. C'è un'altra questione aperta invece che disturba la giunta Fedriga ovvero eh quello dei fondi eh interreghe delle collaborazioni trasfrontaliere perché si rischia di perdere eh milioni decine di milioni di euro dalla prossima programmazione. L'Europa vuole dimezzare i contributi. Roberti dice la giunta è in prima fila per evitare un taglio penalizzante e ingiusto. L'assessore invita l'Unione Europea ad aspettare le elezioni prima di prendere qualsiasi eh decisione. Andiamo avanti con le pagine interne del messaggero ci spostiamo alla cronaca cittadina di Udine e ritorna ad attualità la questione eh dell'ex sede di Banca Italia che eh l'Ateneo vuole acquistare. Sono già stati stanziati 1,5 milioni di euro ma si spera nell'aiuto della regione. Il rettore De Toni dice il CDA ha impegnato la cifra. La scelta è stata legata alla donazione di Maseri. Questo per quanto riguarda eh la ex sede di Banca d'Italia. La cronaca invece con una bimba caduta dal secondo piano. La piccola di tre anni si è esposta da una eh finestra salendo sul letto e precipitata sul prato di un condominio nel PIP Est. A dare l'allarme è stata una vicina di casa e sul posto sono intervenuti eh polizie 118. Fortunatamente la bimba è rimasta illesa. Eh un altro fatto di cronaca arriva dal Pordenonese eh la donna di 64 anni che ha accoltellato eh alla è stata accoltellata alla schiena ha arrestato il marito. E poi ancora si parla della gestione dei migranti dei richiedenti asilo e anche delle spese sanitarie eh per loro con l'aumento di casi di tubercolosi. In tre anni sono stati ventotto i pazienti curati in città. L'assessore Barillari dice la regione ci dia più fondi per eh l'ospedale. A Udine ieri si è fatta festa anche eh per il trentacinquesimo compleanno della sezione Anna di eh Cussignacco un doppio appuntamento per le penne nere arrivate anche da fuori in regione. Sono stati consegnati ventidue attestati di merito ai parenti dei caduti della grande guerra. Vedete alcuni scatti del raduno proprio in piazza Cussignacco degli Alpini. C'è stato anche un annullo postale con una cartolina creata eh da un disegno di un alunno della scuola eh Zorutti. Ancora dalla messaggero eh dalla provincia due gli eventi particolari che hanno caratterizzato la domenica. Da un lato la corsa degli asini a Fagagna Egidio e Beppina superstar fanno vingere Borgoriolo eh trionfo per il fantino Lestani la sua asina giunta al nono successo. Tensione tra le scuderie grande entusiasmo sugli spalti per la centoventottesima edizione vedete alcune delle immagini di eh questa tradizionale festa friulana. Altra tradizione si è rivissuta a Palmanova con la rievocazione storica nonostante il maltempo tutto andato per il meglio le donne, i cavalieri, le armi e gli amori a Palmanova rivive il fascino del passato migliaia di visitatori per la rievocazione più grande d'Italia la giornata clou con la battaglia davanti ai bastioni. Vedete queste immagini eh che eh ci raccontano di quanto accaduto ieri eh dei figuranti, degli scontri e dei tanti turisti che hanno assistito all'evento. Chiudiamo le pagine provinciali del messaggero con il punto su Lignano dopo la bomba d'acqua di sabato si discute eh sulle difese in caso di maltempo nubi fragi allagamenti Lignano e senza difesa. Appello del sindaco alla regione servono più fondi per le opere di contenimento. Attualmente sistema di raccolta non può smaltire carichi eccezionali. Lasciamo il messaggero Veneto, ci spostiamo a sfogliare il gazzettino partendo dall'apertura nazionale che vede in primo piano l'autonomia, le mosse del ministro Stefani, il ministro per gli affari regionali al gazzettino dice prima toccherà il Veneto entro il ventidue ottobre la mia proposta di intesa. E poi ancora al caos scuola in Veneto mancano quattromila docenti, le graduatorie esaurite, introvabili professori di inglese e matematica. Andiamo all'interno con le pagine della Friuli, l'apertura parla di animali adottati sul web e rispediti in canile, dilaga in Friuli il fenomeno delle ricusazioni degli animali, molti rispondono agli appelli internet e poi si pentono cagnolini dell'est o del sud Italia considerati ingestibili, continuano anche gli abbandoni di gattini nei cassonetti. Sempre dalla prima del gazzettino lo sport, l'udinese che non punge battuta a Firenze, sconfitta 1 a 0 decisivo il gol di Benassin contropiede e poi ancora la stagione al photo finish Lignano tira la riga, turisti sempre più esegenti in calo leggero le presenze e i visitatori facoltosi. Poi ancora alcune anticipazioni dallo sport, il derby di serie D in Coppa, il Chiarlins Muzzana eliminato dal Tamai. Andiamo all'interno per approfondire alcuni temi dal gazzettino, partiamo proprio dal punto sulle presenze a Lignano, ne abbiamo parlato anche noi nei giorni scorsi, il presidente mandamentale di Commercio Guerin dice che l'ospite diventa sempre più esigente e bisogna mantenersi aggiornati. La regina del turismo estivo regionale sconta quest'anno la spietata concorrenza di due paesi come Egitto e Turchia. C'è la crisi nel commercio, sono mancati molti di coloro che spendono di più e i proprietari delle seconde case e molti operatori sono convinti che bisognerebbe incentivare l'attività nei primi due mesi e chiudere i cantieri. Questo quanto ci giunge da Lignano. L'apertura del gazzettino ci proponeva il focus sul maltrattamento degli animali, sulle ricusazioni rifiutati dopo l'adozione, il caso dei cagnolini degli appelli web. La presidente dell'EMPA dice ormai rappresentano quasi il 90% degli abbandoni, cuccioli lasciati nei cassonetti dei rifiuti perché i proprietari non sterilizzano le gate, sempre le più numerose le richieste a comuni e aziende sanitarie per il ritiro dei cani definiti ingestibili. Nel frattempo entro fine anno i quattro zampe avranno il loro nuovo rifugio, stanno terminando infatti i lavori di realizzazione dei cinque padiglioni dei box per gli animali. Andiamo ancora avanti con le pagine di cronaca dedicate al Pordenonese. L'86enne accoltellata dal marito, la moglie è stata appunto colpita da un anziano cittadino statunitense da anni residente a Bagnarola, di sesto a Reghen, arrestato per lesioni aggravate. La donna è stata colpita mentre stava facendo le pulizie in casa, ha 65 anni, ha una prognosi di otto giorni. È stata soccorsa dai vicini che hanno tolto il coltello dalle mani dell'anziano e chiamato il 112. Novità arrivano anche sulla triplice omicidio della famiglia Macedone di Sacile. Arriva il sospetto che possa centrare la figlia maggiore. Le due sorelle in Macedonia sono state sottoposte a fermo di polizia. In manette l'uomo che avrebbe venduto l'arma. La 14enne Anila ha sentito i rumori e avrebbe iniziato a urlare una mano sul volto per zittirla, poi l'assassino l'ha uccisa. Queste le ultime novità, le indagini che continuano dal paese Macedone. In un comunicato si afferma che presto l'omicida sarà trovato e portato davanti alla giustizia. A proposito di Pordenonese andiamo anche sulle pagine interne del messaggero dedicate alla città del Noncello. Vediamo l'apertura che ci propone il punto sulle case popolare. In città una situazione critica soddisfatta, solo una domanda ogni cinque. Le stanze degli immigrati sono aumentate ma gli inquilini sono per l'83% italiani. Una battaglia politica sulle regole. E poi ancora la città che non va, il vicolo delle mura lasciato in mano ai vandali, uno dei gioielli del centro storico, abbandonato da anni a se stesso, fra scritte sui muri e rassegnazione dei residenti. Andiamo ora sulle pagine di Gorizia invece del messaggero Veneto. Le apriamo assieme. la prima pagina dedicata al capoluogo Isontino parla dello slittamento, dell'esordio dei bastoni estensibili, i vigili li avranno per gusti di frontiera. Muzzatti dice c'è soltanto un ostacolo burocratico, facilmente superabile, gli effetti. Già effettuati i corsi di addestramento per l'utilizzo, vedete, alcuni dei vigili che fanno capo alla polizia locale di Gorizia. La nuova dotazione si parla da tempo, per la sua entrata in scena si era parlato di luglio, poi agosto, i dispositivi sono 30 in tutto e sono stati acquistati da una ditta specializzata di Noale. Dal messaggero di Gorizia andiamo a sfogliare anche le prime pagine del piccolo nella sua edizione triestina. L'apertura è dedicata alla chiesa triestina che scomunica le ronde di forza nuova, dice speculano sulla paura, anche Lampi condanna il sindacato polizia, dice la sicurezza aspetta allo Stato. E poi ancora dal capoluogo Giuliano arriva una notizia di cronaca, Trieste schianto a Fernetti, il guardrail attraversa l'abitacolo, muore a 21 anni dopo la corsa disperata in ospedale. Vedete questa immagine davvero impressionante con la panda che è stata attraversata letteralmente dal guardrail. Dal piccolo nella sua versione triestina ci spostiamo all'edizione goriziana del Monfalconese con l'apertura che rimane tale ma cambia. La fotonotizia a centro pagina si parla del caso Livama, l'indagine dell'ARPA su aria e metalli pesanti coinvolte le famiglie di Montesanto per le misurazioni e poi c'è il boom di visti per la Germania consolati in tilt nei Balcani. Questo è un punto sugli esteri proposto dal piccolo. Ci fermiamo qui per questa prima parte di Buongiorno Friuli, tra poco ci rivediamo per parlare di sport e soprattutto di Udinese.